Oggi abbiamo firmato un importante protocollo con il Comune di Milano sulla fiscalità locale, che ha l'obiettivo indubbiamente di facilitare il dialogo tra il Comune e le imprese nostre associate. Il protocollo poggia soprattutto nell'aprire un dialogo tra Solombarda e l'amministrazione comunale prima di ogni emanazione di normative fiscali da un lato e dall'altro anche allo scopo di prevenire eventuali contenziosi tra le nostre imprese associate e l'amministrazione. Un altro punto decisamente importante è quello di arrivare a una semplificazione degli adempimenti anche con l'utilizzo di strumenti telematici. Da ultimo, ma non meno importante, è quello di studiare e emanare delle normative che permettono di attrarre investimenti di imprese sul nostro territorio. Sì, io credo che sia un importante passo per rivisitare proprio quello che è l'approccio che le imprese e le istituzioni pubbliche devono avere verso la fiscalità. Il tema della fiscalità come strumento di politica economica credo che sia fondamentale. La collaborazione fra le imprese e le istituzioni pubbliche credo che sia un passaggio per poter rilanciare questa visione di questo strumento secondo me non utilizzato a sufficienza in Italia per rilanciare l'economia del paese. Assolombardi è impegnata sulle tematiche della crescita, della crescita delle imprese e del territorio. Il fisco è una leva per la crescita. Lavoriamo sul fisco territoriale. A marzo abbiamo presentato il rapporto sulla fiscalità territoriale. Come follow up sono molto contento che oggi abbiamo potuto firmare con l'assessore al bilancio del Comune di Milano il protocollo di intesa e collaborazione. La settimana scorsa abbiamo presentato il libro bianco sul fisco per una proposta di riforma a 360 gradi e a tutto campo. Lavoriamo su questo per abbinare politica fiscale con politica industriale.